Un debito fuori bilancio da mezzo milione di euro è la questione Energy Manager sotto la lente della decima commissione consigliare a Palazzo Carafa, presieduta dal democratico Antonio Rotundo. La prima è una delibera comunale con la quale la Corte d'Appello di Lecce, sezione civile, condanna il Comune di Lecce a rideterminare l'indennità e pagare la differenza che ammonta a oltre 488 mila euro per l'esproprio di due terreni in zona Sette Lacquare. Secondo i proprietari i terreni sono stati sottostimati in quanto non solo collocati in una zona a forte espansione urbanistica via l'Aldomoro ma anche perché la destinazione è la creazione di parcheggi per il mercato di Sette Lacquare, motivazioni che sono state accolte dal Tribunale che ha inflitto all'amministrazione comunale la pena del riconteggio e liquidazione della differenza. Ora la commissione controllo vuol vederci chiaro su questo debito fuori bilancio. Un'altra vicenda spinosa che arriverà sul banco dei commissari riguarda la Energy Manager. La commissione ha inoltrato richiesta al dirigente Buonocore di trasmissione di copie degli atti sulla questione e la consulenza d'oro al fratello dell'assessore all'urbanistica Severo Martini.